ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video di ultimate music training oggi parliamo di vampirismo musicale uno dei grossi problemi della nostra società è ovviamente il concetto legato all'attenzione appunto ci sono tanti libri come per esempio generazione otto secondi che sviluppano questo concetto molto interessante secondo la quale un ragazzo medio al giorno d'oggi ha un'attenzione appunto bassissima di circa otto nove secondi questo ovviamente è legato al fatto che siamo praticamente tutto il giorno con il telefonino in mano tra social e qualunque altra diavolaria di questo genere questo tipo di problema ovviamente infiscia anche il mondo musicale in quanto le nostre capacità e skill che vanno sviluppate nel corso degli anni che si tratti ovviamente della chitarra o di qualsiasi altro strumento implicano il bisogno di utilizzare un'attenzione estrema in certi sensi anche per diverse ore io ho strutturato un esercizio appunto chiamato vampirismo musicale per ottenere dal nostro tipo di listening appunto quando andiamo ad ascoltare un pezzo ma anche ovviamente legato alla pratica del nostro strumento che ci permetterà di sviluppare la nostra attenzione in maniera pazzesca e funziona in questo modo dovete prendere un pezzo che vi piace in maniera particolare io mi ricordo ai tempi quando scopri questo tipo di esercizio utilizzai angel the massive attack e dovete avere un pezzo di carta davanti con una penna far partire la canzone ovviamente vi serviranno diversi ascolti per svilupparlo al meglio e dovete scrivere con il minutaggio accanto che sia un minuto e 20 058 bla 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 tutto quello che riuscite a capire a livello uditivo dalla canzone ma parlo proprio di tutto in assoluto la tipologia di riff di chitarra o di basso il bit di batteria come sono accordati i fusti della batteria che siano più scuri più chiari i piatti la voce se è stratificata se è doppiata se ci sono un tipo di compressione magari più adatto ad un genere piuttosto che un altro insomma qualunque cosa voi riusciate a carpire da quel tipo di ascolto e vi assicuro che per quanto riguarda artisti come porco pine tree dream theater tool tesseract mesciuga sic di linger escape plan converge eccetera eccetera sarà molto difficile arrivare ad avere una conoscenza perfetta di tutto quello che riguarda il tessuto sonoro della canzone che andiamo ad esaminare ma questo esercizio se protratto anche nel tempo con per esempio non so in un viaggio in macchina di tre ore potete senza ovviamente uccidere nessuno non vi dovete distrarre con un pezzo di carta in quel caso ma dovete imparare ad educare l'orecchio ad un ascolto estremamente approfondito ma parlo veramente di un qualcosa di quasi maniacale questa capacità se sviluppata nel tempo vi porterà non solo ad avere una concentrazione massima quando avrete il vostro strumento in mano per quanto riguarda lo studio ma anche in fasi per esempio di recording in uno studio di registrazione noterete tantissimi problemi e magari dei piccoli difetti che neanche lo stesso produttore potrebbe anche accorgersene quindi fondamentalmente vi aiuterà a 360 gradi proprio nella vostra vita di imprenditori musicali allora ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace e scrivete qua sotto quali sono magari i pezzi che siano prog rock metal di qualunque altro genere che utilizzereste per questo tipo di esercizio ovviamente iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo al prossimo video